Grazie Presidente. Naturalmente ci associamo a questa richiesta presentata dalla consigliera Celli e non può essere diversamente. La mamma di Francesco l'ha ricordato, lo sport è vita e lasciare la vita in età così giovane colpisce. E colpisce soprattutto quando questo accade per motivi casuali, potremmo dire. Quindi benvenga un intervento di questo tipo. Ci auguriamo che sia fatto al più presto, proprio come segnale non solo di partecipazione dell'Assemblea Capitolina a un lutto così grave che ha colpito la famiglia di Francesco, ma proprio per quello che può poi rappresentare. Siamo convinti che gli esempi, i buoni esempi, devono superare i limiti del tempo. E quindi intitolare una struttura sportiva alla memoria di Francesco sarà un segno tangibile di quello che lo sport deve rappresentare, di quello che ogni società civile deve acquisire. Quindi il rispetto, l'amore per la vita, l'amore per espletare e svolgere funzioni di aggregazione, quale può essere un campo sportivo visto sorgere proprio in una zona periferica. Perché lo sport è anche aggregazione, lo sport ha anche una funzione sociale. Quindi il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente questa proposta e ringraziamo ancora una volta la consigliera Celli per averla voluta presentare. Grazie.